Ciao amici e Revotech a tutti! Oggi parliamo delle Aoki EP B60, un nome abbastanza difficile da memorizzare ma una volta che le avrete provate non ve le dimenticherete più. Sono indeciso se definirle pazzesche o fantastiche, propendo per il primo aggettivo, sono pazzesche. Le abbiamo provate a lungo e vi diciamo subito come ci siamo trovati. Innanzitutto le Aoki EP B60 sono delle cuffie bluetooth che già di per sé propongono un rapporto qualità prezzo strepitoso perché vengono vendute a un prezzo di listino molto molto aggressivo ma poi spesso capita che finiscano in offerta con coupon che noi vi forniamo quotidianamente sui nostri canali, sui nostri gruppi quindi seguiteci. Diciamo che sono delle cuffie in-ear di qualità e questo è evidente già dalla confezione che è ricca, bella, curata e include il cavetto usb c per la ricarica, dei gommini di ricambio, sono disponibili due misure e anche dei manualetti con anche la lingua italiana e un case in gomma utile per riporle e portarle in giro. Sono costruite in plastica dura e gomma di ottima qualità e realizzate con un design semplice ma allo stesso tempo molto particolare e piacevole. Sono assemblate in modo impeccabile, costruite benissimo e non presentano difetti di nessun tipo ed è difficile che noi diciamo queste cose. Includono un telecomandino con i tasti per regolare il volume, rispondere e chiudere una chiamata direttamente sul filo. Play, pausa, avviare Google Assistant e una porta usb c per la ricarica, un microfono e un led di notifica utile per avere un'indicazione sull'accensione e sullo spegnimento. Sono davvero poco ingombranti, facili da trasportare, leggere e soprattutto resistenti all'acqua grazie alla certificazione IPX6 che le rende ideali anche per fare sport. Un'ulteriore comodità è il fatto che il filo le leghi una all'altra e non le perderete mai. Filo molto ben fatto e resistente. Ma parliamo di audio che credo che sia la cosa più importante in un paio di cuffie di questo tipo. Garantiscono un suono di qualità e di fascia nettamente superiore rispetto a quelle che abbiamo provato ultimamente, paragonabile a quello offerto da prodotti ben più costosi. Riescono a offrire infatti un audio appagante piacevole perché avvolgente, caldo, corposo, pulito, alto e soprattutto equilibrato fra bassi e alti. Le frequenze quindi sono tutte ricoperte in modo omogeneo ed equilibrato. Non avremo mai sbalzi di volume, non sentiremo mai gracchiare le note acute rispetto al resto così come non sentiremo pompare i bassi in modo spropositato senza alcun controllo. Sono delle cuffie ottime per l'ascolto di qualsiasi tipo di audio, soprattutto per quanto riguarda musica e film, nostro consiglio, perché riescono a garantire sempre un audio di qualità, bilanciato, alto e privo di fruscii in qualsiasi condizione. Il loro isolamento dei rumori ambientali è molto buono, sono molto stabili all'orecchio e non dovrete mai preoccuparvi che vi cadano. Permettono chiamate telefoniche di ottima qualità grazie al microfono integrato privo di fruscii, sensibili e dall'alto volume e garantiscono sempre una connessione stabile e affidabile con qualsiasi dispositivo e sistema mediante il bluetooth 5.0. Ma la vera chicca di queste cuffie, chiamata anche Quick Switch da Aukey che fa la differenza nell'uso di tutti i giorni, soprattutto in giro, per comodità, facilità e immediatezza che permette loro di accendersi e spegnersi automaticamente e istantaneamente tramite dei magneti posti all'estremità dei due auricolari. Ciò significa che è sufficiente separare le due cuffie per accenderle e unirle per spegnerle. Ovviamente è un'enorme comodità che vi andrà ad evitare scomodi clic su tasti per diversi secondi e altre scomodità di questo tipo. Perché è sufficiente eseguire la consueto operazione per indossarle e nel momento stesso in cui le andrete a separare, loro si accenderanno all'istante e si accoppieranno al vostro dispositivo mobile. E non c'è bisogno di fare altro perché nel momento in cui non le utilizzerete più, le sfilerete dall'orecchio, le riaggancerete e loro si spegneranno. Così sono accese e vedete che si accende la lucina verde e appena non le usate più si torneranno ad attaccare e si spegneranno. In questo modo la batteria durerà anche molto di più perché eviterete lo spreco di tenerle accese in stand by per niente. Queste cuffie garantiscono a proposito un'autonomia top capace di raggiungere senza grosse difficoltà le 8-9 ore di utilizzo. Merito sicuramente del Bluetooth 5.0 e appunto del sistema di cui abbiamo parlato poc'anzi e delle due batterie integrate da 60 mAh l'una installate al loro interno. La ricarica completa richiede poco più di un'ora e in appena 10 minuti garantisce 80 minuti di riproduzione audio. Insomma ragazzi in conclusione queste EP B60 sono delle cuffie di gran qualità sotto ogni punto di vista e fra le migliori Bluetooth disponibili sotto i 50 euro in questo momento senza alcun dubbio e voi sapete che noi ne proviamo spesso. Non presentano alcun difetto sostanziale anzi noi non abbiamo proprio notati ed è da più di un mese che le utilizziamo e propongono un'esperienza di ascolto di utilizzo equilibrata e completa capace di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta anche quelle più particolari. Le trovate in vendita su Amazon ci sono anche dei coupon che abbinati danno dei prezzi veramente buoni quindi il prezzo di listino si aggira attorno ai circa ai 49 euro ma con i coupon le si trovano già a 39 a volte anche 35 e in questo caso diventano un assoluto best buy. Detto questo ragazzi vi ricordo di iscrivervi al nostro gruppo Revotech Group su Telegram salutiamo gli amici di malati di smartphone sempre su Telegram che ci seguono e ci sostengono sotto in descrizione trovate il link al nostro canale Telegram entrate tutti perché è una grande famiglia ci stiamo allargando e troverete non le solite cose ma vedrete le cose da un punto di vista finalmente diverso noi vi invitiamo e vi assicuriamo che non ve ne pentirete. Ci vediamo ai prossimi video, alle prossime recensioni, continuate a seguirci, un salutone da Pasqui e Revotech a tutti. Ciao! Ciao!